andrà tutto bene puntata numero 183 oggi è martedì 5 maggio 2020 e sono le 17 e 34 ben ritrovato corrado ben trovato giochino corrado calabro ci siamo lasciati poco fa con la puntata 182 eccoci di nuovo qui corrado la guerra come era l'italia del dopo guerra questa italia straordinaria contadina però capace di risollevarsi e soprattutto capace attraverso la terra di nutrirsi e di prosperare sì era c'era un'energia incredibile una voglia di rinascita di ripresa che attraversava tutti e vedevi la gente lavorare nei campi con producandosi senza risparmio di energia e vedevi muratori dappertutto perché c'erano distruzioni c'erano rovine che riedificavano freneticamente zone zone colpite io sono state una città abbastanza colpita il reggio ho visto la distruzione della città frontista messina ancora più colpita col suo grande porto e c'era fiducia nell'avvenire fiducia non infondata perché pochi anni dopo già negli anni 50 l'italia era diventato il quinto paese la quinta potenza economica nel mondo e poi abbiamo perso quel posto quindi la produzione si moltiplicava poi in quegli anni immediatamente successivi l'autostrada del sole costruita in sei anni giochino oggi per fare dieci chilometri ci vogliono di autostrada ci vogliono anni e anni bisogna avere permesso di sindaci allora tutto veniva autorizzato con un decreto del ministro dei lavori pubblici e l'autostrada del sole venne costruita in sei anni da milano fino a roba e poi fino a napoli aveva saltato solo a rezzo perché c'era una disputa allora fanfane e voleva che facesse un certo percorso invece era previsto l'altro comunque fu un ritardo di meno di un anno che comportò questa variante e dicevo che eppure aveva attraversato momenti terribili io ricordo ragazzino quando ero nella cattedrale di reggio eh che ho andato con mia madre c'era il funerale dell'arcivesco Montalbetti che era stato ucciso in un bombardamento e mentre c'era il funerale arrivò una scarica di bombe che colpirono la cattedrale e la diacente seminario erano eh aeree americane B-17 credo che fosse la loro B-27 ancora non c'erano che le più grandi comunque erano già fortezze volanti che eh volevano bombardare il porto e erano molti imprecisi gli americani e invece colpirono la cattedrale e la cappella del sacramento ha preso fuoco eh molti schizzarono a destra e a manca e beh molti però poi morirono calpestati cercando di afforlandosi all'uscita uno sopra l'altro mia madre invece mi impose di restare in piedi vicino a una un pilastro di soldatino e mia madre aveva un carattere incredibile e una forza d'animo estremo e siamo stati là fino alla fine del bombardamento poi mi hanno mandato a casa a casa vicina e lei si inizia a ricercare la nostra cugina cugina una certa Antonietta De Stefano che era con noi e non la trovava finché vedo una palla di carne e da questa palla di carne uscire un braccio con una borsetta aperta la borsetta della cartellità la riconosciuta momenti indubbiamente traumatizzanti superate superate perché per fortuna eh lo spirito umano consente di andare oltre e tutti ognuno nel proprio ambito ci affrettavamo io studiavo e ho potuto solo accelerare gli studi e mi sono laureato con due sessioni d'anticipo e già qualche mese dopo avevo vinto il primo concorso eh avevo appena fatto a tempo a presentare il diploma di laurea e tutta l'Italia era un cantiere era un fervore attenzione c'è un'altra cosa che bisogna dire questo era lo spirito questa era l'energia ma non c'era l'intralcio di quella che viene chiamata burocrazia tutti contro la burocrazia oggi hanno ragione da vendere hanno ragione per niente perché perché la burocrazia è vincolata dalle leggi hanno fatto un groviglio di leggi per cui per fare qualsiasi cosa per tappare la buca nella strada bisogna fare un appalto un appalto tra l'altro col massimo ribasso col massimo ribasso quelle non mettono abbastanza asfalto mettono un pochino di sabbia e c'è questa è stata questa corsa questa emulazione a mettere sempre più regole complicate per paura la corruzione d'accordo però io non so se nemmeno veramente questo è un presidio contro la corruzione perché quando un procedimento è così complicato che non si arriva alla fine e l'imprenditore e c'è la tentazione di ungere le ruote per arrivarci se invece il procedimento è lineare e snello ecco che allora diciamo c'è meno incentivo comunque non voglio dire il rischio c'è ma bisogna anche essere consapevoli che è inutile dare addosso alla burocrazia se poi le leggi impongono certi adempimenti guarda io ho distribuito centinaia di migliaia di miliardi di lire come capo gabinetto di vari ministri senza che un granello di polvere restasse attaccato a me o a me ministri nessuno ha avuto mai il minimo problema né contabile né penale e tuttavia oggi non lo farei perché le leggi oggi impongono tanti passaggi tanti adempimenti e tanti giochi dell'oca che si ritrova al punto di partenza poi c'è un'altra cosa ai tempi quando io sono entrato all'amministrazione nel 59 all'inizio del 59 e allora chi faceva più e meglio progrediva di più in carriera invece ai giorni d'ossi e chi non fa che viene premiato che chi fa viene accusato di mettere il piede in fallo insomma io penso che questo periodo per quanto duro passerà non so se il caldo ci può aiutare certo che questo virus si comporta in maniera strana dipende probabilmente dalle difese dagli anticorpi che alcuni hanno e altri no certo noi più anziani sono più defedati anche da altre malattie siccome questo abbiamo visto che questo virus non attacca solo i polmoni ma attacca tutti gli organi attacca il cuore attacca i vasi attacca i reni sistema nervoso centrale anche se si annida pure la vescica indubbiamente dipende dalle condizioni ma abbiamo visto anche organismi in perfetta salute abbiamo di bala che non riesce a uscire dal virus non è morto d'accordo non è in condizioni gravi però è ancora afflitto altri invece no e stranamente i bambini i bambini tranne per rarissima eccezione non sono contagiate perché perché hanno ancora le difese immunitarie fresche intatte chi lo sa guarda questo virus la cosa che sorprende è una cosa nuova è un mostro nuovo perché è un mostro perché peggiore di virus presenti eccetto la spagnola mia magia ricordava sempre la spagnola dopo la prima guerra mondiale che fece milioni di morti milioni di morti ma è di cui niente all'epoca la scienza non era abbastanza propria dita ma rispetto alle altre epidemie sars e altre influenza osuina e così via questa volta ancora non si sa niente certo è promettente che già abbiamo i vaccini l'abbiamo con questo nostro stabilimento di pomezia collegato con osport l'anno in israeli ce l'hanno negli statuniti già la sperimentazione clinica avanzata però non si riesce a capire perché sia così devastante in alcune invece in altri passi quasi come una influenza o poco più anche la polmonite ma una polmonite che si suggera mentre in altri la polmonite già grava si creano questi micro coaguli questi trombi che portano a esito letale detto questo sarebbe forse veramente velleitario sperare che col caldo diminuisca ma la speranza è l'ultima a morire consentiamoci anche questa speranza consentiamoci di pensare che con l'aria è più pulita e col sole e magari anche qualche farmaco che si è sperimentato che ci sono dei farmaci che già producono effetti il Sivir per esempio quello usato contro l'ebola serve anche questo a evitare le conseguenze più gravi è quella specie di chinino quel tocilizuab quello che commercializzato con il romac temura quello contro la frita reumatoide qualcosa fa in attesa del vaccino che difficilmente potrà venire prima di gennaio al nuovo anno e questi farmaci potrebbero perlomeno evitare le conseguenze più gravi lascia dei segni questo vaccino anche in quelli che non hanno mostrato segni significativi del vaccino lascia delle piccole cicatrici nei polmoni però insomma sono cose che si possono sopportare dalla guerra si ritornava addirittura con motivazione corrado il dopo guerra l'italia contadina quell'italia che è completamente sparita lo dicevamo prima di quegli uomini capaci di utilizzare la falce di seminare il grano di raccoglierlo quanto li ammiravo i fagioli c'erano località patarriti dove avevamo coltivazione di grano e all'epoca la mettitura andavamo come pagine la sua in montagna andavamo a dorso di mulo arrivavamo lassù non c'erano strade carrozzabile c'erano murattieri addirittura sentieri stretti stretti sull'orlo del precipizio e questi muri camminavano proprio sull'orlo e avevano ragione perché avendo due cofari alle late se avessero camminato più vicino alla montagna urtavano ma a me faceva una paura tremenda vedermi l'abisso sotto arrivavamo su e restavo incantato a vedere quest'uomini con queste grandi falci come abbattevi nel grano io ci ho provato ero ragazzino forse non avevo nemmeno la statura sufficiente però non riuscivo per niente invece loro li miettevano proprio li tagliavano come una motosega ed erano braccia umane generazione contadina sì ma che seppe anche emigrando al nord andando per esempio alla fiat che era il grande miraggio di quell'epoca trasformarsi in generazione operaia e operaia effettivamente produttrici perché la fiat quanto ha sfornato in quegli anni e anche altri pieghi altre cose cioè si è saputa adattare adeguare e assecondare e promuovere lo sviluppo di un'italia che si rigenerava le mulattiere le abbiamo perse tutte le facevamo da bambini ma che belle senza macchina corrava che bello o no avanti c'era uno e poi nel mezzo c'era un altro muro seduto in mezzo a questi due grandi cofere dietro mio padre era un altro e io solo perché mi vergognavo da parte del mio padre dimostrare tutto il mio terrore ma avevo più paura a camminare e andare su quel muro o su quelle murattiere che quando cadevano le bombe perché le bombe chissà perché i bambini pensano non le devono colpire mai un ricordo anche dei paesi che oggi si sono completamente spopolati e io dico che quei paesi erano dei piccoli stati perché all'interno dei paesi che avevano anche una lingua propria perché un paese aveva un dialetto una lingua completamente anche abbastanza diverso dal paese vicino ed erano tutti autonomi perché le persone erano capaci a fare tutto certo e c'era era un microcosmo come poi siamo sfollati dal reggio a Bocale che è una località che è solo a 15 km dal reggio ma allora sembrava Macondo un altro mondo perché la vita era rimasta indietro di 80 anni c'era ancora il pastore c'era quello che aveva la capanna di legno di frasche con dentro la capanna le galline la capra e cose beh questa c'era di tutto c'era lo scema del villaggio che tale veniva considerato che serviva anche un po' per scaricare le tensioni oggi magari lo scema del villaggio viene esibito come un'opinione che vale quanto quella dello scienziato perché Massimiliano ha anche questo aspetto purtroppo meno positivo c'era di tutto e in quegli anni in cui sono stato a Bocale lontano dalla città del reggio ho trascorso tutto il resto della mia infanzia e della mia giovinezza ma veramente ho percepito tanti aspetti dell'umanità che in città è una città pure aperta come la reggio eccetera ma non avrei colto c'era di tutto anche la presa in giro di alcuni era così un modo per coinvolgerla socialmente era qualche cosa che ti faceva sentire parte di un insieme vivente palpitante tutti insieme tutti insieme e nutrivano un modo di vivere che ci sosteneva l'uno agli altri grazie corrado veramente grazie per questa testimonianza grazie e spero presto di fare altre puntate grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti